Mi rendo orgoglioso essere anche la copertina, la prima pagina di questo calendario, soprattutto per il bene che fa le altre persone, quelle che ne hanno più bisogno e quindi per me è un onore. Un campione olimpionico come il centometrista Marcel Jacobs, testimonial di 12 mesi all'insegna della solidarietà, dello sport, della legalità e dell'inclusione. E' il calendario 2022 della Polizia di Stato, tra i volti noti un'altra campionessa internazionale, come Jacobs in forza il gruppo sportivo Fiamme Oro, la schermitrice Bebe Vio. Alcuni mesi sono proprio dedicate a delle emergenze specifiche, novembre per esempio il 25 la festa contro la violenza sulle donne. Le foto scattate da uomini in divisa vogliono comunicare la vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini. Rappresentano i vari ambiti di attività della Polizia di Stato e rappresentano di come la Polizia sia vicino alla gente. Una speranza che questo calendario possa segnare giorni più felici. L'augurio è che sia un anno in cui si riesca a ripartire e in questa ripartenza la Polizia di Stato sarà sempre a fianco a tutti i cittadini. Questo calendario contribuirà al progetto del Comitato dell'Unice Follus Covax per estendere la campagna vaccinale ai bambini dei paesi poveri del mondo e al piano di assistenza Marco Valerio per i figli dei dipendenti della Polizia affetti da gravi malattie.